Ciao a tutti, mi chiamo Michela e sono un artista italiano. Ho lavorato con i media diversi, foto, fotografie, arti visuale in generale e performance. Per raccontare il mio lavoro devo parlare della importanza di Jung, il psicologista. Il mio lavoro è stato fondamentale per me perché mi ha aiutato a capire il processo di individualizzazione e anche a scoprire il mondo del mondo dei symboli, la visione di holistica e la synchronicità. Io ho capito che quello che ho fatto nel passato nella mia ricerca veniva quasi inconsciente, con l'intenzione di capire di capire di me. Il materiale, i immagini, diventano un magma fertile con la capacità potente di fertilizzare la mia arte. La mia produzione artistica è una sorta di rituale in order di restituire l'equilibrio, un exusso tra me e il mondo e il universo. Io vedo che nel mio lavoro ho expresato la necessità di rinforzare a me, come se fosse propitiare la mia rinforza. Ma questo tema non ha solo un valore individuale e personale, ma concerne l'unità dell'umanità. Grazie! Grazie!